Un anno e mezzo dal giubileo del 2025 che secondo la Prassi per quelli ordinari dovrebbe aprirsi la notte di Natale del 2024, il tema lavori infrastrutturali e di preparazione diviene stringente. Il tempo è poco ed i progetti sono diversi. Si cercherà di snellire le procedure, così per prevenire possibili abusi ed infiltrazioni mafiose e criminali nella sede della prefettura di Roma è stato oggi siglato un protocollo di legalità destinato agli interventi nella città di Roma per il giubileo ma pure per gli investimenti PNRR dedicati al programma Caput Mundi, un flusso di fondi che la capitale non vedeva da tempo. Il protocollo che entrerà in vigore domani e durerà fino al termine dei lavori ha come finalità quella di assicurare in tutti i contratti il rispetto dell'interesse pubblico, la legalità e la trasparenza. A firmare l'intesa il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il sindaco e commissario straordinario per il giubileo Roberto Gualtieri e Marco Sangiorgio, a di del giubileo 2025 la società del Ministero dell'Economia che agisce come stazione appaltante nonché l'ufficio territoriale del lavoro e le organizzazioni sindacali. È prevista la creazione di banche dati informatiche a cura degli aggiudicatori delle opere ed un piano di controllo dei cantieri oltre alle verifiche antimafia. Per rendere più snelli controlli ed interventi entro 15 giorni saranno create eppure in prefettura una cabina di regia ed un tavolo di monitoraggio con i rappresentanti dei soggetti firmatari. Roma si conferma in prima linea nella difesa della trasparenza detto il sindaco Gualtieri commentando il protocollo per il quale il prefetto Giannini ha auspicato l'esigenza di effettuare tutte le opere nei tempi previsti e nel rispetto della sicurezza e del diritto.